Ciao bimbi! Oggi la Chiesa celebra l'ascensione di Gesù al cielo. Ascoltiamo insieme il Vangelo. In quel tempo, gli undici discepoli si riunirono su un monte, come Gesù risorto aveva chiesto loro. Quando i discepoli videro Gesù, si inchinarono. Gesù si avvicinò e disse loro, A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate per il mondo e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ad osservare i miei comandamenti. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Grazie per la visione!